Oh e siamo qui a raccontare una nuova storia italiana fatta di sale LAN videogiochi e gente indignata, anzi scandalo videogiochi Ecco vi dico già che la mia sarà una tesi in controtendenza rispetto a tutte le tesi che si stanno facendo sentire adesso negli ultimi giorni Ma cercherò di portare con me più dati possibili per supportare le mie parole, quindi ecco quello che ho capito io, iniziamo E quindi a quanto pare esistono queste sale LAN che sono degli spazi edibiti al pubblico per cui le persone possono andare lì, prendersi la loro postazione da gaming e giocare insieme in internet ovunque nel mondo Io non ero assolutamente a conoscenza di questa realtà e mi sono subito immaginato degli internet caffè anni 2000 ma per i millennial Ma tant'è, esistono queste robe qui e ben venga se la gente videogioca, tra l'altro sono anch'io un videogiocatore ma lo faccio molto attentamente da casa Perché altrimenti bestemmierei dappertutto e non mi sembra il caso, insomma, ne avrebbe della mia reputazione Cosa è successo? Qualche settimana fa un imprenditore che ha attività imprenditoriali proprio in questi settori di sale da gioco, biliardo Che non significa necessariamente slot machine e gioco d'azzardo ma appunto biliardi, cabinati, postazioni da gaming oppure bowling, bar eccetera eccetera Insomma, le classiche sale giochi che noi conosciamo ha esposto alcune perplessità riguardo alla regolamentazione delle sale LAN Perché secondo quanto la sua esposizione attuano una concorrenza sleale perché non seguono le regolamentazioni messe in campo dall'ADM Che sarebbe l'agenzia sulle dogane e monopoli Per giustificare la sua posizione porta ad esempio questa situazione Che differenza c'è in fondo tra questa postazione da gaming molto comune nelle sale giochi e una postazione da gaming appartenente alle sale LAN Beh, di principio nulla visto che portano gli stessi benefici al consumatore E cioè un intrattenimento dovuto ai videogiochi Però se da una parte quella postazione gaming molto diffusa nelle sale giochi è strettamente regolamentata e da obblighi e da tasse Che ovviamente l'imprenditore deve sostenere Dall'altra parte le sale LAN a quanto dice l'imprenditore non sono soggette a tutte queste regolamentazioni E da qui nasce appunto la concorrenza sleale Per supportare ancora di più le proprie tesi l'imprenditore cita anche dei regolamenti fatti dall'ADM Che proprio regolano l'attività di intrattenimento attraverso strumenti videoludici o comunque elettronici Quindi se da una parte un'attività imprenditoriale viene tassata e regolamentata in un certo modo Dall'altra parte un'attività imprenditoriale che esegue le stesse funzioni non ha le stesse regolamentazioni E fino ad adesso per me sembra del tutto legittimo Eppure all'interno dei social è cavalcata questa polemica riguardo addirittura ad un paragone tra le slot machine Il gioco d'azzardo e i videogames Che sì magari a volte questa comparazione viene usata a sproposito Ma non è assolutamente questo il caso L'imprenditore non vuole far chiudere quelle attività imprenditoriali ma le vuole semplicemente regolamentare Come già ci sono le regolamentazioni e le disposizioni dell'ADM che regolano quel tipo di attività Quindi la richiesta dell'imprenditore è semplicemente quella di rispettare le regole E invece no io ho visto anche tanta shitstorm riguardo l'imprenditore E addirittura gli è stato dato del rosicone Quando in realtà la sua volontà è semplicemente quella di porre una concorrenza leale all'interno del mercato E quindi voglio sottolineare questo aspetto Non si è mai fatto un paragone tra le sale bingo e le sale LAN Ma di nuovo si è posto l'accento sul rispetto delle regole da parte di queste sale LAN Non c'è nessun intervento ideologico riguardo al ban dei videogames, degli sport E chi più ne ha più ne metta perché io ho sentito solo questo molto spesso E non è vero! Ma ritorniamo a essere calmi perché quei regolamenti che abbiamo visto sono fondati su un articolo E cioè il 110 del TULPS Che regolamenta, definisce e mette le sanzioni per quanto riguarda gli apparecchi idoni per il gioco lecito Inoltre si basa sull'articolo 86 Che definisce che tutti gli apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici Dovono avere delle licenze adatte per essere offerti al pubblico Molti si sono lamentati che all'interno di questi articoli non è presente la dicitura sale LAN Oppure computer o PC gaming È vero, non c'è scritto PC gaming con sedia ergonomica, schermo 28 pollici eccetera eccetera Ma si può anche desumere dalla normativa che comunque si intendono anche questi dispositivi Quindi secondo me rientriamo comunque anche se in maniera un po' strecciata nelle regole Quindi gli articoli e i regolamenti cosa ci dicono? Che i dispositivi che fanno parte di questa attività di intrattenimento Devono essere regolamentati, certificati In modo tale appunto che si svolga la normale attività che si vuole svolgere Sono state create polemiche anche riguardo questo punto sull'omologazione Ma se andiamo a vedere le regole, l'omologazione non è nient'altro che un'autocertificazione In cui si identifica la tipologia di apparecchio che si ha a disposizione Sempre facendo riferimento all'articolo 110,7 del TULPS E inoltre c'è la necessità di un'illustrazione sintetica del funzionamento dell'apparecchio e dei giochi contenuti Insomma sarebbe un po' come l'etichetta per quanto riguarda i cibi alimentari Bisogna dichiarare cosa c'è all'interno e come funziona Nulla di così trascendentale secondo me Per essere ancora più chiari l'ADM ha creato un nuovo documento Che specifica tutte le situazioni e crea un sostanzialmente Q&A riguardo alle questioni E effettivamente sottolinea ancora una volta il fatto che Tutti i dispositivi che vengono utilizzati per l'intrattenimento Devono essere certificati e devono essere soggetti a determinate tassazioni E cioè la fantastica Easy imposta sugli intrattenimenti Che scadeva il 16 marzo e che praticamente era connessa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento Senza vincita in denaro Insomma anche qui non rientrano le sale LAN? Io non credo E così l'ADM pone come ultimo termine il 30 aprile Il giorno entro il quale queste attività devono iniziare a conformarsi con queste regolamentazioni E conseguentemente iniziano anche i controlli E qui arriviamo al fattaccio Tra le varie sale LAN che sono state controllate dall'ADM in questi giorni Risulta anche la eSport Palace Che è una nuota sala LAN di Bergamo Che è collegata alla AK Informatica Un negozio informatico che distribuisce prodotti di computer gaming in tutta Italia Addirittura l'ADM attraverso i suoi controlli ha sequestrato i dispositivi elettronici della eSport Palace Perché appunto non seguivano le regolamentazioni che abbiamo citato fino ad adesso E in conseguenza la eSport Palace ha creato dei contenuti indignati Riguardo appunto l'azione dell'ADM sui social Che hanno fatto creare un polverone all'interno dei social E per questo se ne stiamo parlando anche noi su questo canale Devo essere sincero quei contenuti non mi sono piaciuti particolarmente Innanzitutto perché citano come Rosicone Un imprenditore che vuole far rispettare le regole E pone dei dubbi sull'esistenza o meno di una leale concorrenza Tra le varie attività all'interno dell'Italia E poi tra l'altro vengono messi in mezzo ad esempio Di nuovo giochi d'azzardo Slot Machine Ragazzi che al posto di andare nelle sale LAN Vanno a spendere i loro soldi nelle slot machine Che sono di nuovo delle argomentazioni molto fallaci Insomma Non è questo il problema E di nuovo se il ragazzino al posto di andare nella sala LAN Va al Non lo so Trovo così tanto senza senso questo discorso Che vabbè andiamo oltre Sono stati messi in mezzo anche negozi di elettronica Fiere E chi più ne ha più ne mette Insomma un vero e proprio mappazzone Si è parlato anche di un'Italia retograda Addirittura si è parlato di medioevo Quando in realtà il punto non è quello Lo Stato non vuole limitare il gaming La diffusione degli sports eccetera eccetera Vuole semplicemente porre queste attività in regola Con tutte le disposizioni messe in campo dall'ADM Che sono messe addirittura da un po' di tempo A mio modo di vedere non si è mai colto il punto delle situazioni Si è parlato di videogame Di slot machine Di gioco d'azzardo Ma non è questo il punto Il punto è se effettivamente ci sia una situazione di concorrenza sleale o meno Tra due attività che seguono due regolamentazioni differenti Anzi una non la segue proprio Anche se le due attività perseguono gli stessi fini A livello di intrattenimento fondamentalmente Insomma se da una parte c'è una sala giochi Con migliaia di cabinati di Metal Slug Ad esempio in cui ogni cabinato deve rispettare Di determinate regolamentazioni Di determinate imposizioni fiscali Dall'altra invece non c'è queste regolamentazioni Ed effettivamente nascono due attività Con due obblighi differenti E quindi effettivamente potrebbe esserci veramente questa concorrenza sleale Ed è giusto che le regole debbano essere rispettate E il punto della situazione è semplicemente questo Lo Stato non vuole limitare il gaming Lo sviluppo del settore gaming nel mondo Nella nazione eccetera eccetera Attenzione non dico che queste regole E questi articoli sono perfetti Se le leggiamo molto spesso si intuisce Che sono ideati su tecnologie degli anni 90 O degli anni 2000 Di nuovo cabinati eccetera eccetera Però è chiaro che queste regole Possono essere applicate anche alle sale lane Che è giusto che debbano essere applicate Quindi sicuramente le leggi non sono perfette Potrebbero essere migliorate Ma questo non toglie che debbano essere rispettate E in questa storia Come ho detto anche su Instagram Ci ho rivisto tanto anche la storia di Stepney Riguardo al fisco Il così tanto declamato a teco eccetera eccetera Ora non è che se all'interno della legge Non c'è scritto youtuber Allora io non devo pagare le tasse Anche io sono un influencer Sono uno youtuber eccetera eccetera Eppure pago tranquillamente Tutte le mie tasse allo Stato Nonostante non ci sia un articolo a teco Adatto al lavoro degli influencer Tra l'altro la DM ieri in un comunicato a stampa Ha sottolineato che La notizia diffusa da eSport Palace Sul fatto che le sale LAN in Italia Sono state tutte chiuse È completamente falsa Infatti la DM in questa settimana Ha concluso quattro controlli E uno di questi quattro controlli Non ha avuto nessun rilievo Né contabile né amministrativo Quindi sì Si può avere una sala LAN In conformità di legge Mentre negli altri tre casi Sono stati appurati Delle irregolarità E per questo sono state Sequestrate le apparecchiature Destinate al gioco Nello stesso comunicato viene confermato Che in uno di questi tre casi Non c'erano assolutamente Nessuna certificazione O titoli autorizzatori E tra l'altro conferma il fatto che Non c'è nessun rischio Per le manifestazioni di settore Comprese fiere Eventi di eSport Insomma I contenuti di eSport Palace Sono stati una mezza fake news O anche totale Se vogliamo Ecco Questo era quello che volevo dire Riguardo questa questione Quindi il fulcro Non è una questione ideologica Di un rosicone indignato Che vuole smantellare Un settore Che è quello videoludico Ma in realtà C'è quello di cercare di capire Se c'è questa concorrenza sleale E cosa che la DM Ha reputato esserci Visto che poi alla fine Ha sequestrato Questi dispositivi Ed effettivamente Insomma Seguire le regole In un mercato Che sta crescendo Bene tutto Ma che deve essere Comunque regolamentato Per tutte le altre questioni Tecniche e legislative Purtroppo io Non ho le competenze adatte Magari vi lascio A dei contenuti Del Avvochad Che bistratta l'economia Su questioni più tecniche In ambito legislativo Eccetera eccetera Però ecco Secondo me era giusto Creare un po' Il focus Della situazione E cioè Non si tratta Di una questione Ideologica O di voler Smantellare Il comparto gaming Il settore del gaming Ma in realtà Di far rispettare Le regole Che già esistono E che devono Essere rispettate Non lo so Spero di essere stato Il più possibile Chiaro In questa Discussione Se volete aggiungere Altro C'è qui in chat I commenti A disposizione Ringrazio gli abbonati Per supportarmi E ci vediamo Al prossimo contenuto Mi raccomando Giocate in casa Altrimenti non potete Bestemmiare E la bestemmia È il fondamento Del gaming È importante Daia